Ma che sta succedendo? Sì, non è un casino. Maria, che sta succedendo? Quelle cose vanno male, quelle donne si sono ribellate, non vogliono più lavorare. Uè, abbiamo perso il controllo. Abbiamo proprio perso tutto. Ora la coppa è mia sotto. Io mi trovo stessa. E io non mi trovo. Ebbene sì, siamo entrate in sciopera e non vogliamo lavorare. E questa sera non ci sarà nessun spettacolo. Sì, non ci sarà. Donne, 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 E' scabroso le donne studiare. Siamo donne, non vogliamo lavorare. C'è un'iamma e vola stiamo a cà. Donne, donne, che felicità. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Principale, guardate a chi l'ho rinnegato. Ma guardate, tu sei un'amma e ti metti mie se femmine. Perché è un'amma, mister. No, ma manchi voglio fatica. Insomma, adesso qui non parla una moglie, non parla una donna, non parla un'amante, non parla una socia, non parla la titolare del locale, non parla una mamma. Mamma, scusami, hai chiamato? Ma chi ti hai chiamato? Insomma, insomma, ma chi ci parla, e a Mucet? Perché? E chi stava parlando nessuno? Ma che! Mamma, mamma, mamma. Dove andate? State qui qua nel primo video, a chi devo parlare? Adesso parla una donna in sciopera e vuole i suoi diretti. Oh, ma Pilates! Adesso parla una donna altissima, purissima, merissima! Ma a chi va questa acqua mineraria? Volete questa acqua? Limpida, cristallina! L'acqua bella, l'acqua bella! Nooo, non mi sarai arrabbiato! A chi basta l'acqua mineroe? A me, a me! Degasera! Ho capito! Quella dell'uccellino! Eh, per forza! Noi ti siamo nati! Noi ti siamo nati! Pumano, è caro duvaglione! È caro duvaglione! Si sono rotte le acque! Noi! Noi! Noi!